Secondo tempo si è chiuso il primo sul 4 e 2 per il Real Palermo. Ho tre tiri liberi sbagliati a Real Palermo. E' la prova dell'Aro. 5 e 2. Qui c'è ancora che dovete salire, non è che vi siete dietro. Mi chiamano a girare la mano. Alla ragazza, alla ragazza. Ciao! 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 Sbagliate! Uff! 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 Ciccio! 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 Non posso rispondere, sto facendo i video, quindi dico che non posso parlare, se no c'è la c'è la partita, quindi non posso parlare. Uff! 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 Ciao! Uff! 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 Vado là, vado là, vado là! ... dai dai Oh! Ah, beh, oh! Oh, ci vuole me! Oh! Andiamo un'altra sala, andiamo un'altra! Oh, oh! Grazie. 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 Grazie a tutti. Ognuno l'uomo, ognuno l'uomo! Vieni, vieni, vieni! Vieni, forzate, a voi dieci, siete raccomandati. Dieci? Dieci in tutto, cinque la squadra. Il mio faraone che è sempre abbronzato. Ma queste gambe sono più bianche di tutti. Una statistica tra tutti i giocatori è la più bianca di tutti. Dai, dai! Uno all'uno! Uno all'uno! Uno all'uno! Con queste gambette è arrivato avanti. Veloce! Veloce! No! Va bene, dai! Maddaloni! Quattro, due, cinque la squadra. Quattro, due, cinque la squadra. Subito! Quattro, due, cinque la squadra. Quattro, due, cinque la squadra. Sì! 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 6-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 Vai, lo accompagniamo 3-3 5-3 4-3 6-3 7-3 7-3 7-3 6-4 8-3 7-3 3-6 7-3 Come si sta? Ho capito? Come lo stai a mezzare? No, no. Gliate, mi devo le chiamare. Capito! 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 Ricci! Che solo, bravissimo, ha fatto una cosa intelligentissima, era solo e non se ne era d'accordo. Chi? Filippo. Che non arriva ai palloni. Tu con le tue gambette riesci a infilare. Sì, in realtà è un metro e trenta. È un metro e trenta di gambe e basta. Sì, è Cristiano Inano, più di... Provalo! Perché era lui, sta tenendo tutto, tutto, tutto. Ha fatto la differenza, però... Ha preso due tiri a fritto, è incredibile. Ecco, di lì è il cammino tutto. Il rischio di essere saporito. Tocca a me! Cazzo, va! Di stanza! È in campo stesso, è un mondo, ma così. Hai bisogno? Eh? Hai stato o a distanza? Oh, sempre! Oh, sempre! Non mi fa... P***- Non mi fai, non mi fai, non mi fai. P***- 6 ma si sta di 7 a 3 tutti i fascisti quanto te ne mancavano a 100? 4 93 eri 93 io mi ricordo ora vediamo e vado a festeggiamo festeggiamo a fare i vaccini paghi il campo il doppio il doppio allora non ci arriva allora non lo farò ti offri un geto questo oh ragazzi tic tac vengono a catenacce i soldi di Piero? si lascia a chiedi a Mario se li metti in una busta ti ha detto di venire qua Mario? no 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 ci sto pensando ora perché ho visto a Piero la sceglieremo lunedì sono le ultime due partite del Girona io volevo cominciare i quarti mercoledì però ora tutti hanno detto che il mercoledì gioca la Juve e quindi io non mi metterai le partite io vedo infatti provalo ok tanto rimanevo per nuove dieci teoricamente 9 e 10 le 10 perché alle 9 non si può fare anche se vengono perché ho i campi io altre da voi ne mancano ne mancano siamo alla quattro e dicesima no quattro dopo questa quattro a eeeh Sì, 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 guarda unire, questa ragazza è fatto del campo, io gli ho detto come andata la cosa, gli sembrava che parlava del campo, 7-4 siamo, no, 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 Buongiorno, faccio qui Anche sarebbe ovviamente meno di 60 euro al mese, ma momentaneamente ci pesano, a parte ne dovete parlare sempre con i titolari Vabbè, io lo sto dicendo perché ieri abbiamo fatto il suo scopo, in effetti io non penso che c'è una distribuzione comunque di mezzo Sì, sì Il campo è la migliore pubblicità, sì è vero il volantinaggio, però è nella zona dove si trova il campo Ma la cosa migliore è che passa parole per me Vabbè, questo sì, però io non so ora con la presidenza, cioè 8-5 Per questo periodo che abbiamo visto, prova non più Sì, ora non più, ora invece la disponibilità la trovo Se provavi, le provavi sempre alla 20-30 anni e mezz'anno Esatto, ora invece, no, perché non esistono più gli affitti fissi, non esistono più le persone che si affittano nel campo Ti pongono il lunedì e te lo mantengono, ce n'hai pochi E' da due anni che giocavo, è capitano mio cagnato Con il gruppo dei commessi di ricevere Ogni venerdì, sempre, però la sezione, loro sono più risultati Sì Ok, va bene, quindi io mi insegno quella per le 22, poi per le altre mi fa sapere tu Va bene Ok Ciao 9-5 9-5 9-5, no, ha sempre da arrivare No, 9-5 No, andiamo mai Sicuro perché gli abbiamo chiesto all'arbitro No, io pure uguali, io pure uguali li avevo segnati Mi ha chiesto a lui per confermare gli ero chiesto Oh, ci stanno in canno Ma dopo te li puoi rivedere, nel video No, no, no Buono, se non può diventare quell'arbitro, smengono No, 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 no Stavo colpito due volte, tre sono No, 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 no Vieni qua, senza pezzo Vieni qua, senza pezzo Vieni qua Vieni qua Vieni! Bravo! Il campo è tuo, quindi il peggio lo fa largo. Non ci credo. Che non davvero lì c'è un pallone? Non lo sai. Ma che non davvero lì c'è un pallone? Non lo sai. 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 10-6. Trova dell'Aro. Non lo sai. Non lo sai. Anzi è passato. Non lo sai. Non lo sai. Non lo sai. Diusso. Diusso. Dioca Dioca Dioca. 10-6. Non lo sai. fischiato quasi in contemporanea 10-7 5-9 Oh, dà una palla a terra, porca bustana! Oh! Oh! A terra! Non c'è così! Non uso, 10-8. Non c'è adesso! Non c'è adesso! Guarda, ma convinto a passare la palla! Non c'è adesso! Stai a terra! Stai a terra! Stai a terra! Angelo, poi... Che vuoi giocare? Vedi che cerca? Gli c'è un managgio! Gioca! Oh! Ma faccio più! Ma faccio cosa? Cambia, cambia! Guarda, Ciccio! Guarda, Ciccio! Guarda, Ciccio! Guarda, la maffigliere è nata! Ehi! Ritorna, Ciccio! Recupera! Guarda, Ciccio! Guarda, c'è un po' bambini! O-oo-ay! Vai, buu! Tocci! Sì! 남ICKI- Chi 겨elti! Regolare il vantaggio! Parca,�신co! non è che c'è una c'è una potenza un'altra volta la città 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 qualcuno ha un gancho città città non è mancato 3 non ci credo vengalo 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 città 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 Oh, Gappa, oh! Ora Padellaro, 11-8. Signori, da ora due minuti. Oh, Padellaro! Oh, che controllo! Oh, no! Sì, tutto nello che ci sono! Ora, dietro! No, ma io sono! No, ma io sono! Non è... Non si fa ora? Un'altra squadra è insofente a Europa. Vai, 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 vai! Ehi! 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 Oh se non vengo faccia la pinta, vede Mike, vede! Oh! 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 Caravo! Tra le muli 11-9 11-9 Ciao! Sveglia! E finiscila! Vabbè! 12-10 Vabbè! Vabbè! Io lo dici pure tu! Non l'ho visto, dai, giochiamo! Ma ancora l'ho visto vero, mi chiedi da nel mio mondo! Io non vado con dei pezzi, non vado più qui! La clicchino di domanda di cosa, che sto scavano, onde come lo camera e mi chiede? E ciò è! E cosa vuol dire? Ehi! Vabbè! Vabbè! Ma non è l'arbitro che ha fatto... Lo sai chi va a cambiare la partita, è il loro portiere. Che ha preso qui? Guarda avanti. Prova a farglielo bene. A tre! Bravo arbitro!